Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredita la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i mesiricordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei Cieli. Parola del Signore Questa solennità è una delle feste più belle e più luminose dell'anno liturgico. E' la festa che ci spalanca, diciamo così, la visione del Paradiso. Questa grande assemblea dei salvati, dove riconosciamo tanti volti di persone anche a noi vicine. Quindi oggi festeggiamo non solo i santi, diciamo, famosi, quelli con l'Aureola, quelli del calendario, ma festeggiamo tutti i salvati, quelli di cui ci parla il libro dell'Apocalisse, e nella prima lettura di oggi, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni tribù, nazione, popolo e lingua. Dappertutto lo Spirito di Dio suscita i santi, le uomini e donne, e anche bambini, giovani, non c'è età per la santità, che vivono le beatitudini, il Vangelo di oggi, che vivono, cioè, sulla stessa strada, sullo stesso cammino di Gesù, nella semplicità di una vita anche quotidiana, normale, ma appunto vissuta, secondo quell'amore, quello spirito dei poveri, di cui ci parla il Vangelo. È la santità che il Papa Francesco ha definito della porta accanto, la santità, la classe media della santità, cioè quella santità che non fa rumore, non fa miracoli, non fa cose straordinarie, ma nella ferialità e nella quotidianità di una vita apparentemente del tutto normale, vive invece una straordinaria esperienza di Dio e un profondissimo amore per i fratelli, vissuto appunto attraverso la semplicità e la normalità dei gesti, del sorriso, della telefonata, della visita, del piccolo o grande aiuto prestato, del servizio, della fedeltà dentro la fatica. Ecco, di quelle cose così semplici, così umili, che però per primo Gesù ha vissuto e che ci ha insegnato che se vengono vissute nell'unione con Dio portano dritti al cuore del Padre, a quella appunto santità, cioè quella bellezza della vita che rivela il volto di Dio. Un volto di uno che dà ai poveri il Regno dei Cieli, di uno che consola chi piange, di uno che dà ai miti, a quelli che non vogliono prevalere sugli altri, in eredità alla terra, a uno che saffia la fame e la sete della giustizia, del desiderio, cioè di un mondo più fraterno e più vero, il Dio che fa trovare misericordia a chi ha usato misericordia, il Dio, insomma, che si rivela nei volti, e tutti noi li abbiamo conosciuti sicuramente, nei volti delle persone buone, delle persone vere, autentiche, che hanno, con i loro difetti, perché poi i Santi non sono i perfetti, ma sono autentiche persone, autentici uomini e donne, proprio come noi, che però hanno, in un certo senso, trasformato i loro difetti, anche in passioni convertite verso il bene, che hanno accolto e lavorato sui loro limiti per farne un trampolino di lancio verso Dio e verso il prossimo. Chiediamo a tutti i Santi di accompagnarci nel nostro cammino quotidiano verso Dio. 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 Dio.